sono tornata finalmente scusa scusa che sarei tornata anche prima ma sono stata letteralmente fermata ogni cinque minuti cosa è successo sono stata bombardata da dei piccoli mucciosi che non facevano altro che dire mamma guarda c'è il coniglio della pasqua il coniglio della pasqua non ridere è stato frustrante sono stufa di tutti questi sguardi strani che subisco ogni giorno in questo periodo eppure peggio tutti che vogliono dolcetti dal coniglio pasquale io te lo giuro se questa accadrà un'altra volta sì mi piacciono i bambini ma non mi piace quando mi corrono addosso e pretendono che mi dedichi a loro quando faccio i fatti miei sono stata fermata tre volte oggi tre volte una volta mentre facevo shopping un'altra mentre ero in farmacia ora sai quanto sia imbarazzante venire disturbati mentre si chiede la crema antimicotica e i loro genitori non sono neanche d'aiuto sempre lì a fare le facce da ebede a ridere perché tanto divertenti i loro figli si divertono certo perché per loro io sono il coniglietto pasquale sarebbe tanto divertente infastidirmi e fare persino delle foto senza chiedere sì sono seria lo so che questa è una città fatta più che altro da umani ma che cavolo pensi davvero che non abbiano mai visto dei dèmi prima voglio dire e le grandi città lì è pieno ci sono persone gatto persone pipistrello persone di ogni tipo a ogni angolo ma la persona pipistrello è forse dracula e la persona gatto è forse una waifu hai ragione mi devo calmare sono solo stanca di essere vista in questo modo sai sai come fanno qua tutti si comportano come se fosse un alieno lo so che non hanno intenzione di ferirmi ma non è giusto comunque potreste aiutarmi con la spesa per favore visto che ne stavamo parlando hai piani per pasqua neanche io vorrei fare qualcosa di divertente ma nessuno è disposto a fare attività se non ci sono almeno cinque persone no la mia famiglia non farà nulla in realtà prima ci incontravamo ogni anno in un grande evento ma con quello che è successo di recente beh non credo che si farà sembra che dovremmo passare la pasqua insieme cavolo io davvero non ti sopporto perché mai sarei dovuta essere la tua conquilina negli ultimi due anni scusa hai forse detto qualcosa no 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 io credo di aver sentito benissimo coniglietto pasquale quel sorriso mi conferma tutto stronzo cosa dovrei forse accogliere il mio nuovo nomignolo divertente seriamente potresti piantarla non sono dell'umore per queste cose accetto le tue scuse come va il lavoro beh è stressante hai presente quel capo idiota di cui ti parlavo sì lei finalmente va in pensione il che è fantastico ma sicuramente cercheranno una sostituta e questo mi mette ansia perché e se scegliessero me mi sceglieranno sai quanto sia importante questo posto per me senza la società sopporto per demi umani io non sarei neanche non sarei qui non potrei affittare questo posto e poi sai come la gente si comporta con i demi comunque io vorrei vorrei raggiungere quella posizione pensavo di creare un evento un evento di beneficenza aiutare più persone come me sto cercando di avere un'idea a proposito e qualcosa che possa impressionare i manager a cosa ho pensato esattamente a nulla non ho nulla tu hai un'idea cosa un evento di pasqua ci ho pensato ma ci sono tanti posti che lo fanno e poi cosa sarebbe diverso uova di cioccolata gratis perché la gente dovrebbe venire dal nostro scusa come no l'ho sentito benissimo sei ancora in vera discorzore non scherzi senti lascia che vada dritta al punto tu vuoi che noi facciamo un evento pasquale dicendo e ti cito abbiamo il vero coniglietto pasquale che sarei io sì mi piacciono i bambini ma mi sono rotta le scatole di averci a che fare ogni giorno sì hai ragione i bambini sarebbero davvero emozionati a vedermi sì e loro crederebbero davvero davvero che sia il coniglietto pasquale sì ho davvero bisogno di questo evento per venire promossa sai cosa mi hai convinta se posso essere la coniglietta pasquale tutti i giorni che sarà mai per un solo evento e poi ogni volta che un bambino verrà da me io semplicemente dirò ehi raggiungimi a questo evento mi troverai lì domani sai cosa mi sta piacendo questa idea quando ti ritrovi libero bene ho bisogno che tu venga al lavoro con me quel giorno così avrò un testimone beh ci sarà bisogno di più di un semplice coniglietto pasquale e se usassimo le uova decorate per una caccia ma anche per altre cose sì sarebbe divertente qualcosa tipo piantare i fiori coloratissimi e aiutare i bambini a piantarli e poi potremmo usare le uova per 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 creare degli oggetti e poi potremmo scusa è che la cosa mi sta emozionando davvero penso che sarebbe divertente ehi credi che ai manager potrebbe piacere il fatto che i bambini mi credano il coniglietto pasquale forse però potrebbe essere una buona idea fare un video io e te domani dobbiamo fare cose in giro ma chi se ne frega intanto pensiamoci e poi dovremo incontrare tanti bambini e filmare la loro reazione quando mi vedono beh sai una testimonianza in più a quello che sto facendo beh potrei stare anche esagerando ma voglio davvero che questo evento ci sia non solo mi darebbe una seconda chance ma sarebbe un ottimo scopo per i demi umani come me e per il supporto che ci può dare sì accetterò il mio dovere da coniglietta pasquale attenzione mondo coda pastello sta arrivando